Il centrodestra guarda con grande interesse alla Calabria per le prossime elezioni politiche del 4 marzo. Secondo i sondaggi, infatti, il Partito Democratico sarebbe in grave calo tra il Pollino e lo Stretto e si starebbe facendo sempre più strada a un duello tra gli azzurri e i pentastellati. In Calabria il grosso della squadra che dovrà scendere in campo per il centrodestra nei collegi uninominali dovrebbe essere quasi pronta. Secondo autorevoli indiscrezioni, le direttive del leader di Forza Italia sono chiare, gli outsider dovranno essere tutti impegnati e schierati nei collegi. Ergo, amministratori, consiglieri regionali ma anche personalità dell'imprenditoria e della cosiddetta società civile sono tutti allertati. Ieri sono usciti i primi verdetti, le candidature certe sono quelle di Piero Aiello e Domenico Tallini per l'area di Catanzaro, Franco Talarico correrà a Reggio mentre Francesco Cannizzaro punta su Gioia Tauro. Sarà invece staffetta tra Alessandro Nicolò e Giovanni Bilardi per il collegio senatoriale e il nodo potrebbe essere sciolto già oggi con l'arrivo a Roma di altri big della coalizione tra cui Vandaferro. D'altronde la legge elettorale è chiara e dal risultato dei collegi uninominali che si giocherà la partita per ottenere la maggioranza a Camere e Senato e dunque governare senza ricorrere a governi di larga intese. Gran parte dei big calabresi perciò saranno in campo e molto probabilmente saranno candidati nei collegi proporzionali. Tra le altre indiscrezioni nell'istino nord è quasi certa la presenza del duo Chiuto-Santelli che coprono anche il difficile ruolo di mediatori rispetto alle istanze dei probabili candidati e degli alleati. In forse potrebbe essere anche il sindaco di Corigliano Giuseppe Geraci. Altri nomi che circolano quelli di Fausto Orsomarso, Giuseppe Graziano, Nino Foti, Giuseppe Mangiolavori e Claudio Parente. La Lega di Salvini punta infine sul coordinatore regionale del partito Domenico Furgioele. Ancora da capire da che lato decideranno di buttarsi le formazioni centriste apparentemente minori come a Pilari, a Casini o Verdini che in Calabria hanno nomi di peso come i Fratelli Gentile, Pino Galati e tanti altri. Tali formazioni se si presenteranno divise potrebbero essere innocue ma federate tra di loro potrebbero registrare numeri importanti e dunque fare la differenza.